1.710 studenti, 24 gare, 52 professori, 37 istituti scolastici, 25 comuni interessati ed infine 15 discipline sportive. Sono questi i numeri dei campionati studenteschi di Siena che da quest'anno vedranno la partnership di Estra. Iniziare oggi ufficialmente una collaborazione con una società importante come Estra che ci supporta e ci sostiene per quello che riguarda la parte organizzativa direi prettamente tecnica legata ai riconoscimenti, alle gratificazioni da consegnare ai ragazzi che partecipano è sicuramente un aspetto importante da non trascurare perché indubbiamente la gratificazione e il riconoscimento è alla base dello stimolo. L'obiettivo è quello di contribuire al rilancio degli stessi campionati studenteschi. Abbiamo sempre sostenuto da molti anni a questa parte tutti gli sport cosiddetti minori, che minori non sono nella efficacia con cui penetrano nelle giovani generazioni. e ci piace molto questo accordo con la scuola, con i campionati studenteschi, perché i campionati studenteschi che io ho fatto a mio tempo sono una grande festa dello sport dove l'agonismo si avvicina all'educazione classica, quindi fondamentalmente mi sembra, ci si è sembrato fondamentalmente un binomio estremamente...